salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale ale eccoci qui oggi signori con un video unboxing torniamo con un video unboxing oggi molto ma molto intrigante molto interessante abbiamo qui il nostro pacchetto da unboxare pieno di cose molto interessanti quindi direi subito bando alle ciance iniziamo a spacchettare il tutto vediamo cosa contiene questa scatola misteriosa perché non so se ve l'ho scritto nel titolo se facciamo un unboxing molto ma molto misterioso per l'appunto allora 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 andiamo a vedere prima prima c'è della interessantissima carta che va a proteggere cosa cosa allora o signori qui si parla di ghost dragon breakpoint che tra l'altro vi rimando sul canale perché già abbiamo iniziato una mega seriona non ve la perdete vi lascio magari anche in descrizione il link al primo video abbiamo una t shirt che adesso vi faccio vedere meglio perché me la metto vabbè ve la faccio vedere anche da da più vicino molto figa è anche della misura perfetta quindi che vuoi di più si vede si vede la magliettina va bene proseguiamo con altro altro bestiario questa volta siamo una felpa attenzione felpa verde sportiveggiate signori molto ma molto figa anche questa di un verde bottiglia e adesso ci mettiamo anche questa pronti ve lo dico se c'è un giubbino non me lo metto se non inizia a far troppo caldo ma il giubbino non c'è perché qui abbiamo abbiamo una figure di nomad che è il protagonista di ghost dragon breakpoint nel nostro caso nomad nome in codice poi il nome del nostro ghost è giambattista mi raccomando andate a vedere i primi episodi del nostro mitico giambattista magari vi faccio vedere di sottofondo un po d'immagine andiamo a spacchettare beh ragazzi devo dire che è fighissima alla sua base è fatta molto ma molto bene vi faccio vedere un po una panoramica su quelli che sono i dettagli di questa figure anche per quanto riguarda il vestiario sembra reso molto ma molto bene lo zaino cappellino cuffie i tatuaggi del nostro nomad tra l'altro questa se non erro si trova sullo store del di ubisoft questa finisce dritta nella libreria questa finisce dritta nella libreria dell'action figure che è molto molto bella dopodiché c'è un altro pacchetto che tiro fuori mentre il nomad ci guarda da lì dietro andiamo ad aprire anche questo qui e qui ragazzi abbiamo la collector's edition di breakpoint parto da la parte superiore giustamente dove c'è il gioco ok andiamola ad aprire adesso perché signori io sono curioso di vederla prima di arrivare al punto forte andiamo a vedere che c'è una steelbook poi abbiamo la colonna sonora questa dovrebbe essere la mappa di gioco eccolo qui l'arcipelago di auroa che sarà la base delle nostre scorribbande poi 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 abbiamo operazione greenstone dove ci sono delle delle cartoline le faccio vedere più da vicino questa è la città utopica del miliardario questi sono i lupi che poi andremo a scoprire e parlando di lupi qui abbiamo la figure di cole walker allora insieme alla figure c'è la piastrina di cole walker vi faccio una panoramica anche di questa figure realizzata anche questa in modo eccellente molto ma molto figo anche walker che incontreremo appunto in game una vecchia conoscenza del nostro nomad molto molto bella anche questa con questo mantello che svolazza e che tra l'altro il volto a walker glielo dà l'attore di the punisher l'avete notato anche voi ma non mi ricordo come si chiama l'attore ma va bene poi naturalmente vi ricordo anche che la figure di nomad la potete trovare sullo store di ubisoft magari vi lascio il link anche di questo in descrizione così come la collectors edition possiamo piazzare uno di fronte all'altro i nostri due antagonisti li vedremo come detto nella serie che è già iniziata sul canale andatela a seguire poi magari su instagram vi posterò qualche foto più nel dettaglio di queste di questa limite di queste figure quindi seguitemi anche su instagram ragazzi per questo breve unboxing io direi che ci possiamo salutare qui mi raccomando come detto vedete in descrizione che c'è il link magari al primissimo episodio della serie di ghost dragon breakpoint con il nostro lupo e con il nostro nomad direi che ci possiamo salutare qui ci vediamo alla prossima saluto a tutti da questa leale saluto a tutti saluto a tutti saluto a tutti